La Speranza è il tradizionale appuntamento che la Lilt organizza su tutto il territorio del Salento per fare una raccolta fondi che permette di garantire ai cittadini tutti quei servizi ormai divenuti un vero e proprio patrimonio dei salentini e che la Lega garantisce danni. Parliamo di servizi sul fronte della prevenzione, sul fronte dell'assistenza, specialmente l'assistenza domiciliare e parliamo anche di quei progetti molto ambiziosi che da qualche anno ci siamo dati e in particolare il nostro centro ILMA, il grande centro ILMA in cui i lavori sono ormai attivati e in fase di realizzazione alle porte di Gallipoli che rappresenterà veramente la sfida del Salento al Cancro per le generazioni future in quanto lì sta per sorgere un grande centro di ricerca, un centro per la riabilitazione, un centro per la prevenzione clinica di altissimo livello dotato delle attrezzature più avanzate e quindi tutto questo è iniziato grazie al grande cuore dei salentini. Sapevamo di poter contare su questo e quindi la nostra ambizione è cresciuta. Sappiamo anche di poter contare ancora per il futuro perché quel centro va terminato e i servizi vanno attivati quanto prima. Ecco perché allora il nostro appello perché il 6, 7, 8 di dicembre in tutte le piazze di tutti i comuni del Salento voi tutti possiate andare alla ricerca della stella targata Lilt di Lecce. La Lega ve ne sarà grato e sicuramente il nostro futuro rispetto alla lotta al cancro, questa dura lotta che dobbiamo portare avanti nel modo più efficace possibile, risentirà in maniera molto valida.